Tanta paura ma fortunatamente solo qualche ferite e diversi danni. Un incidente infatti nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22.30, ha coinvolto ben quattro veicoli in via Andria, nel centro abitato di Barletta. Per ragioni ancora da verificare, una BMW ed una Volvo sono entrate in collisione all'altezza dell'incrocio con via Rizzitelli. È probabile che alla base dell'impatto frontale tra le due auto ci sia stata l'alta velocità su una strada urbana, velocità che potrebbe anche essere stata dettata dall'imminente chiusura del passaggio a livello proprio di via Andria. Nella carambola le due vetture hanno anche abbattuto dei pali per la segnaletica stradale, i mezzi hanno riportato ingenti danni soprattutto alla parte anteriore. Nell'incidente sono state coinvolte e danneggiate anche altre due vetture, e cioè una Fiat Stilo e una Fiat Croma parcheggiate semplicemente in zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno temporaneamente interdetto il traffico in zona e due equip sanitarie del 118, quattro i feriti tutti di Barletta, due sono stati trasferiti al di Miccoli, gli altri due invece al bonomo di Andria. Tutti sono stati medicati e trasferiti in codice giallo non in pericolo di vita.